Melissa Satte e Matteo Berrettini sono ai titoli di coda, l'ex velina non parla ma ha festeggiato il compleanno col figlio. Melissa ha compiuto 38 anni ed eccola con Maddox 9, nato dall'amore con l'ex marito Kevin Prince Boateng. L'indiscrezione sulla rottura tra la showgirl e lo sportivo 27enne ha cominciato a girare qualche giorno fa. Lei ha delle storie e condivide le immagini della cena organizzata a Milano. Ci sono i suoi amici, ma Matteo è scomparso e pensare che i due erano usciti allo scoperto come coppia proprio un anno fa, in occasione dei 37 anni della Satta.